Questo è un video di introduzione al trittico di Sant'Andrea. Il trittico di Sant'Andrea è formato da tre video. Il primo è la propaganda, il secondo subito collegato, il video sulla DAC, e il terzo su Marx, Karl Marx. Il video sulla propaganda è uno dei più importanti mai prodotti da Aleph. Serve a far vedere come la storia dell'economia è la storia degli inganni che la propaganda ha utilizzato contro i popoli per immiserirli. Quindi un video centrale per capire come funziona l'economia, come funziona la psiche, come funzionano i comparti più importanti della società. La propaganda è il mezzo che le élite utilizzano per poter dominare i loro sudditi. La propaganda è sempre stata fatta e in tutte le società non si è comandato il popolo solo con la forza, ma lì si è fatto anche ottenendo nel consenso. Il consenso si ottiene con la propaganda. La propaganda diventa propaganda scientifica nel Novecento, con Edward Bernays, nipote di Freud, e poi con Goebbels che imparò da lui e fece la propaganda nazista. Ora, la propaganda si collega immediatamente al video della DAC, sulla DAC, dove si vede come il nostro impero occidentale economico riesca a distruggere l'economia di un paese, dei LADACI, cioè, attraverso la propaganda di se stesso, cioè attraverso le immagini di forza e di progresso che noi avremmo nel caso nostra e quindi che andiamo a sportare generosamente nel paese dei LADACI. Andando in questa direzione, cosa accadde in LADACI? Che i cantadini perdettero le terre e dovettero ritirarsi nelle città dove in gran parte rimasero disoccupati. Da allora il LADACI ha tutti i guai psicologici e sociali che abbiamo in Occidente. Prima di quel momento, prima di 30-40 anni fa, quando iniziò la storia, il LADACI era un popolo che viveva nella felicità, felicità comunitaria. E adesso passiamo a Marx. Marx è l'autore che più di tutti ha spiegato il rapporto di classe, cioè tra la classe superiore, la classe dell'élite e la classe invece dei più deboli, dei proletari. E le parole di Marx trovano un riscontro perfetto nella storia pur breve della LADACI, una storia che dura 40 anni, mentre da noi in Occidente, in Europa e in America questa storia è durata alcuni secoli. Con questo vi invito a vedere il trittico di Sant'Andrea, questa playlist, con molta attenzione, perché qui avrete modo di sviluppare la vostra consapevolezza in un modo assolutamente nuovo. Tutte queste cose sono praticamente sconosciute alla maggioranza assoluta delle persone. Con questo vi ringrazio e buona visione.